In una ciotola rompiamo due uova, aggiungiamo lo zucchero e montiamo con le fruste per qualche minuto. Aggiungiamo l'olio di semi, lo yogurt, la farina, il lievito e mescoliamo ancora con le fruste. Versiamo l'impasto in uno stampo a ciambella di circa 22-24 cm di diametro. Farciamo con abbondante nutella e con un copiaio copriamola leggermente con un po' di impasto. Cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale.